Ieri erano le 8.38, oggi le 8.34, quanto pare il momento dei video, essendo appena svegli non si vuole per dire proprio nulla di lucido. Niente allora, ieri giornata pienissima, bellissima come al solito, tanti incontri organizzati dai nostri amici Maurizio e Annarita, ci hanno portato a incontrare il borseggiatore che fa le borse artigianali con la luce negli occhi, abbiamo incontrato un bellissimo atelier di cibo che ci ha anche ospitato a pranzo, abbiamo incontrato dei ragazzi che stanno lottando per preservare la ferrovia che collega Cuneo a Nizza e tante altre storie. Poi è arrivata Daniela che sta facendo questo video, quindi ci vedrete nei prossimi giorni, e alle 5 abbiamo fatto la presentazione, la prima presentazione di Piemonte che cambia, è stato molto emozionante, non sintetico, quasi tre ore, forse dovrò affinare un po' la cosa in questi giorni, e ora non so se sopravviveremo a questa strada, quindi dobbiamo trovare una catasta di legna ma non c'è neanche una catasta e quindi noi andiamo a destra perché c'è la discesa, dopo la salita arriva sempre la discesa.